Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno lasciato uomini e donne con una scelta inaspettata. Infatti, in studio nessuno si aspettava che durante questa registrazione i due protagonisti del trono over avrebbero salutato le luci dei riflettori. Subito Tina Cipollari nota il particolare outfit della parrucchiera siciliana, che si presenta con un lungo ed elegante abito nero. Maria De Filippi mostra ai presenti un filmato che ritrae Ida e Alessandro che parlano dopo la precedente registrazione. Dopodiché, ecco che la Platano inizia il suo discorso per iniziare ad annunciare la loro uscita dal dating show di Canale 5. Ida rivela così che lei e Alessandro hanno trascorso diversi giorni insieme sia a Brescia che a Salerno. Qui è scattato qualcosa in più dei soliti baci. In questi giorni è venuto a Brescia. È venuto spesso a trovarmi. Passiamo due giorni insieme. Lo porto a casa mia. Lo faccio restare a dormire. Sono stata sotto pressione in queste settimane. Però io l'ho vissuto fuori da qui diversamente. E in questi giorni ho capito altre emozioni che mi porti. Forti. E ho cercato anche di capire quello che mi ha portato a questi due giorni bellissimi passati insieme. Subito dopo. Alessandro vicinanza fa sapere che hanno trascorso una giornata insieme a Salerno. La città in cui lui vive. Il cavaliere ammette che oggi le emozioni che prova sono molto più forti rispetto a quelle che provava una settimana fa. Ma Alessandro prima di lasciare Uedì con Ida ci tiene a fare una precisione. Te l'ho detto più rieri. Le paure aumentano insieme ai miei sentimenti. E quindi questa è la situazione mia oggi nei tuoi riguoni. La platano fa notare che tra loro c'è anche paura per via della distanza. Ma questo non li ferma. A un certo punto. Mentre Ida sorride entusiasta. Alessandro pronuncia la parola attesa. Usciamo. La parrucchiera conferma così. Arrivata a questo punto. Ho preso la decisione. Nel frattempo. Roberta di Padua sorride. Riccardo Guarnieri guarda in basso e Gemma Galgani piange.